Un po' irriverente la situazione in cui ci troviamo, hai capito? Ci sono tutti gli elementi qua che non riusciamo a sciogliere. Il PD non ci sta. Mi sembra che con la Lega si sia chiuso. Dice Sallusti, il governo e il presidente chi se lo vota e quindi... Allora no, ti faccio una metafora, però non ti scandalizzare. No, no, perché... Basta che non parli di sesso. No, però parto da quello, però non dettagli, non ti preoccupare. No, non arrossire però. Allora, la cosa è questa. Nelle pratiche sessuali c'è una cosa che si chiama dominazione, no? Cioè un dominante e un dominato. Diciamo di solito il dominante è donna, ma lasciamo perdere donna uomo. Ecco, quello che vorrebbe fare il Movimento 5 Stelle con il PD è esattamente questo. Cioè il Movimento 5 Stelle vorrebbe essere il dominante, mentre il PD è il dominato. Cioè vorrebbe sostanzialmente, dopo aver detto qualsiasi cosa in campagna elettorale, e qui ho un elenco di frasi dette da Di Maio, il Movimento è nato in reazione al PD, il PD ha un'idea perversa del concetto di democrazia, il PD è un partito di miserabili, il PD si fa pagare da mafia capitale, nel PD ci sono gli assassini politici della mia terra, sono criminali politici, eccetera, eccetera. Dopo aver detto le peggio cose durante la campagna elettorale e molto prima della campagna elettorale, adesso vorrebbero il PD al guinzaglio. D'altra parte, qualche settimana fa uno degli esponenti principali dei 5 Stelle, che si chiama Toninelli, ha detto una frase molto significativa. Cioè il PD faccia il governo con noi, così può redimersi, può riscattarsi dagli errori commessi. Ora, non so se ti è piaciuta la metafora della dominazione o no, ma secondo me è abbastanza chiara. C'è Giacchetti che ha già un look un po' da dominato, c'è anche sotto, è tutto una cosa di... E anche un po' di bondage, non ne parlo con la Ducci, se no poi devi diventare un sessista. Scusami, io penso davvero, Nicola, penso davvero che la posizione più coerente... So che la coerenza in politica sembra una follia, però la posizione... Io non ho votato Partito Democratico, però la posizione più coerente in queste settimane così convulse tra governi possibili, prima 5 Stelle, poi i due forni, eccetera, è proprio quella di Renzi e del Partito Democratico. Cioè che dicono, no, noi dicono, abbiamo perso, vogliamo andare all'opposizione. Io spero, io spero, ma non è che spero per il Partito Democratico, e non me ne frega assolutamente nulla. Spero perché un minimo di coerenza ogni tanto può anche pagare. Dunque lo spero per Giacchetti, che è mio amico, e per le sue fortune politiche, e per la sua, come dire, per la sua dignità. Ecco, cioè se ha un minimo di dignità nel Partito Democratico è quello di mandare a quel paese Di Maio... Però, però, adesso, una cosa da Cruciani, tu che li senti spesso, anche nella tua radio, cioè quella parte del Nord, quella parte del Nord che ha votato Lega, è una parte, che senti tu come sentono tanti altri, però a quelli là gli può andar bene, perché noi ne abbiamo sentiti tanti, e gli può andar bene un accordo col Movimento 5 Stelle, perché dice, 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 dice Sallusti, ma rischia di fare l'utile idiota. E però il problema vero è che siccome nessuno può essere sicuro di cinque anni di legislatura, non può tradire i propri elettori, Salvini tradisce la sua base elettorale, facendo, per parlare con termini tuoi, e poi dandosi un bacetto con Di Maio? Secondo me c'è comunque un tradimento, perché non scordiamoci che molti deputati della Lega sono stati eletti anche dai elettori di Forza Italia o di Fratelli d'Italia, insomma, diversi deputati nei collegi uninominali, dunque un po' di tradimento ci sarebbe comunque, ma sarebbe certamente, è tutto innaturale, perché tutti i partiti si sono presentati più o meno da soli, c'era la coalizione di centrodestra che non ha ottenuto la maggioranza, 5 Stelle, il PD con l'abbonino, eccetera. Dunque, qualsiasi unione che nasce da queste tre cose è comunque qualcosa di innaturale, però forse, anche sentendo un po' gli umori delle persone, come io faccio ogni sera, come sai, come fai anche tu, io credo che è l'unione forse meno innaturale. E poi anche andando a guardare quali sono i punti su alcuni temi, l'immigrazione, l'Europa, sono tutte cose generiche ovviamente, che vanno poi verificate. Però ecco, credo che un governo tra i 5 Stelle e la Lega non sia vissuto, almeno dagli elettori della Lega, come un tradimento della loro base elettorale. Io stesso faccio il tifo per questo governo, ma perché penso che sia il governo dei vincenti rispetto al governo degli altri che più o meno hanno perso le elezioni. Dopodiché poi i rapporti da Salvini e Berlusconi interessano loro, se la sbrighino loro. Non credo che, per esempio, le amministrazioni del Nord governate dalla Lega e da Berlusconi possano subire alcun che. Io penso che, per esempio, gli assessori alla sanità, per esempio l'assessore alla sanità della Lombardia, che è di Forza Italia, sia uno molto più potente rispetto a tre ministri. E non credo che Forza Italia mollerebbe facilmente una poltrona di questo tipo o comunque possa fare cadere un'aggiunta in cui ha un potere reale, come peraltro l'aggiunta del Veneto, l'aggiunta futura magari del Friuli. Lo schema che hai fatto vedere all'inizio, secondo me c'è un errore, perché secondo me Berlusconi, il governo con Di Maio, l'avrebbe fatto volentieri. Cioè Berlusconi ha questa straordinaria capacità... L'avrebbe? No, sì, l'avrebbe fatto volentieri. Berlusconi ha la prima freccia, Berlusconi-Di Maio. In realtà non è un veto di Berlusconi, è un veto di Di Maio soprattutto, perché Berlusconi all'inizio il governo l'avrebbe anche fatto con i Cinque Stelle, perché Berlusconi in sostanza, perché è fatto così, perché è un democristiano, perché è un grande pragmatico, Berlusconi basta sedersi a un tau dove può decidere qualcosa. Per cui che sia con Di Maio, che sia con il suo peggior nemico, anzi, quando il suo peggior nemico viene a Canossa, cioè lo accetta come interrogatore, per lui è un godimento straordinario. Per cui Berlusconi gode del fatto che un suo nemico... E questo è il punto. Che dice Salusti? E ribalti il concetto, certo, se Di Maio domani si presenta in televisione e dice Berlusconi non è il male assoluto, anzi può essere un ottimo socio di governo, beh, allora è cambiato il quadro e quindi cambiando il quadro cambiano tutte le condizioni. Ma vediamo, andiamo al sud. Berlusconi è uno che vuole stare in partita, non vuole prendere la palla e andare via perché è offeso, perché è incazzato, però, insomma, sta in partita a certe condizioni. Allora, non è che Berlusconi è uscito dalla partita, probabilmente ha capito che la partita con Di Maio non porta più da nessuna parte, quindi è inutile giocarla. Allora, lì è successa... Scusami, Nicola, c'è una questione molto semplice. Sì, sì, ma tanto, io non lo mando questo servizio. No, perché molti dicono, molti dicono, Di Maio fa male a rivendicare la presidenza del Consiglio a tutti i costi. Però io devo dire la verità che da questo punto di vista, pur non avendo votato 5 Stelle, sono invece abbastanza favorevole a questa cosa, perché bisogna sempre trovare un nome terzo, un professore, un qualcuno che è chiaramente delegato poi dai partiti. Per cui Di Maio fa benissimo a rivendicare. Ha preso, ragazzi, non ci nascondiamo, ha preso il 32%, il 33%, quello che è, ed è giusto che rivendichi anche in un governo di coalizione di fare il Premier. Mi sembra una rivendicazione legittima in altri governi di coalizione, in altri paesi europei. Non è che il governo l'ha fatto un tecnico, un ministro, un generale. L'ha fatto il capo del partito più forte. Ed è giusto che Di Maio rivendichi questa roba qui. Perché già che ti fa così la Merkel è capo di un periodo di discussione.